benvenuti in questa guida top 7 smartphone di consiglio pro tra questi sette abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative non dimenticare di iscriverti al canale e di mettere mi piace ma partiamo subito al settimo posto troviamo motorola moto edge 30 fusion il motorola moto edge 30 fusion è uno smartphone di ultima generazione con una fotocamera da 50 mp 5g display oled fhd da 6.5 a 144 hertz qualcomm snapdragon 888 batteria da 4400 mAh 8 gigabyte di ram e 128 gigabyte di memoria interna sesta posizione al sesto posto troviamo doro smartphone 8104 grammi senioren questo smartphone è una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo di qualità con funzionalità avanzate il design è moderno e la memoria da 32 gigabyte offre spazio sufficiente per tutti i tuoi dati la fotocamera tripla e la connettività 4g sono grandi vantaggi punteggio 78 punti info in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo asus rog phone 6 smartphone asus rog phone 6 è uno smartphone 5g di ultima generazione con una straordinaria combinazione di caratteristiche il display da 6,78 full hd a 165 hertz offre un'esperienza visiva eccezionale mentre la batteria da 6000 mAh ora garantisce un'autonomia di lunga durata punteggio 84 punti info in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare samsung galaxy a 53 5 grammi smartphone il samsung galaxy a 53 5g è uno smartphone android di fascia media con un display infiniti o fhd super amoled da 6,5 pollici 6 gigabyte di ram e 256 gigabyte di memoria interna espandibile la batteria da 5000 mAh ora offre un'eccellente autonomia il design awesome black è moderno ed elegante punteggio 82 punti info in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo samsung galaxy a 23 5 grammi smartphone il samsung galaxy a 23 5g è uno smartphone android 12 con un display infiniti v da 6,6 pollici 4 gigabyte di ram e 128 gigabyte di memoria interna espandibile la batteria da 5000 mAh ora offre un'eccellente autonomia il design elegante in nero è una scelta eccellente per chi cerca uno smartphone moderno ed efficiente punteggio 89 punti info in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo xiaomi redmi note 11s xiaomi redmi note 11s è uno smartphone di qualità eccellente il display amoled da 6,43 fhd con refresh rate a 90 hertz offre un'esperienza visiva fluida e nitida il processore mediatek helio g96 garantisce prestazioni veloci e affidabili la fotocamera professionale da 108 mp cattura immagini di alta qualità punteggio 91 punti info in prima posizione vince la classifica samsung galaxy 1013 smartphone android uno smartphone dalle grandi prestazioni samsung galaxy 1013 offre un display fhd da 6,6 pollici una batteria da 5000 mAh una tripla fotocamera 4 gb di ram e 128 gb di memoria interna espandibile un prodotto eccellente per chi cerca un dispositivo di qualità ad un prezzo accessibile punteggio 95 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al